Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con Il Punto di Luce con Don Roberto Ponti. Buonasera. Buonasera Jacopo. Allora si parla di sociale, di un tema sociale, di un tema importante, di un tema che spesso quando arriva il periodo delle vacanze, delle ferie, qualcuno si dimentica e invece non bisogna farlo ed è quello della povertà. Anche in vacanza dobbiamo tenere presente questa realtà che è sempre attorno a noi, che è sempre vicino a noi e fa un po' parte anche di quell'attenzione che dobbiamo avere per tutti, cioè la povertà che si manifesta magari in questo periodo in particolare come povertà di bene, di mezzi, però possiamo anche tenere presente la povertà, chiamiamola spirituale, la povertà di chi ha bisogno di un appoggio, di un sorriso, di una vicinanza e quindi è un tema che in estate ha una rilevanza particolare. Sì, quella materiale, come stavo dicendo, è anche quella, ad esempio, mi viene in mente tante volte la questione degli anziani quando rimangono da soli e questa è la povertà spirituale di cui si può parlare. Come al solito iniziamo con qualcosa da vedere, delle immagini. Qualche immagine che stimolano la nostra riflessione ci mettono dentro proprio l'argomento e inizierei proprio con il primo quadro perché si tratta di arte contemporanea, un artista bergamasco che si chiama Fabio Agliardi, l'anno scorso ha preparato una mostra, gli è stata commissionata sulle opere di misericordia, opere di misericordia corporali, opere di misericordia spirituali. Il quadro che mostriamo è quello dell'opera di dar da mangiare agli affamati, si capisce. Sullo sfondo c'è la casa di Natale di Giovanni XXIII e davanti vediamo questo gesto particolare di impegnarsi a dare qualcosa. Ecco, ovviamente arte moderna, però evocativa di un gesto che dobbiamo fare. Il gesto è quello di un piatto che deve riempirsi e dobbiamo pensare a chi magari non riesce a fare, ad avere il necessario. A riempirlo insomma, a riempirlo almeno quella volta al giorno perché purtroppo poi ci sono tanti sfortunati che non riescono a mettersi a tavola. E qui è proprio il punto di contatto tra la fede perché il punto di luce è sempre un racconto, una riflessione sulla fede e il sociale è il nostro impegno quotidiano accanto agli altri. Quindi questo quadro ci ricorda l'opera di misericordia corporale che è un atto, un gesto legato alla fede cristiana. Poi addirittura è una mostra che ha un quindicesimo pannello anche questo perché ha voluto aggiungere un inedito tra virgolette. Non abbiamo il tempo di vederli tutti, però il quindicesimo pannello è proprio un'opera particolare che è stata messa in evidenza anche da Papa Francesco, quello che è la cura della casa comune, l'ecologia, questa attenzione che ci vuole sempre protagonisti. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo per la casa comune. Assolutamente, assolutamente. Andiamo avanti perché c'è un altro quadro molto interessante, recensioni ma veramente molto positive tra l'altro di questo artista che il nome d'arte è Jason. Si. Lo possiamo vedere. Si chiama Giacomo Sonaglia e di Roma e ci sono quattro gesti delle mani. La solidarietà, l'affetto, la carità e anche la rabbia. Sono diciamo le mani sono il nostro modo di avvicinare gli altri. È vero che in questo periodo le teniamo un po' riparate per evitare il contagio però il quadro evocativo di quello che le mani possono fare possono essere in un gesto di rabbia o di opposizione. Di chiusura come si vede ad esempio di apertura e di dono. E con le mani si dona anche e si cerca di sconfiggere la povertà. E non dimentichiamoci di essere aperti, quindi di aperti al dono anche in questo periodo estivo. Allora proviamo a vedere un po' di, anzi ad ascoltare le voci di quello che è l'esperienza diciamo così, di chi purtroppo vive delle difficoltà. C'è una situazione a cui spesso noi pensiamo con un certo distacco ma che è anche vicino a noi, cioè chi vive in strada. Esatto. E anche il come ci si finisce è qualcosa di cui bisogna occuparsi, bisogna riflettere su quello che può succedere, che può succedere non soltanto agli sfortunati matti. Certo, qualche anno fa un progetto ha proprio analizzato queste situazioni e allora magari possiamo vedere una testimonianza. Possiamo vedere una testimonianza, la ascoltiamo e la guardiamo subito. Mi chiamo Agio Maria Grazia e provengo da una buona buonissima famiglia lavorando, studiando insieme. Mi sono presa la mia laurea in psicologia clinica. Ho iniziato ad essere una buona professionista perché appunto ho lavorato per praticamente quasi 30 anni e di recente sicuramente dal 2012 in poi ho perso lo studio che avevo iniziato come psicologa, ho perso il mio lavoro come psicomotricista e alla fine ho perso anche la casa, la mia auto, cioè praticamente tutto. E continuo a non avere lavoro poi del resto. Tant'è vero che a un certo punto io che collaboravo col comune o con gli enti convenzionati per proporre dei progetti di sostegno alla cura della persona, perché questo è il mio ambito, è il mio settore da sempre, alla fine mi sono trovata ad essere dall'altra parte della scrivania, ad essere io che chiedevo aiuto per progetti simili. Quindi è un scivolamento verso il degrado che lo vedi attorno a te e lo senti anche dentro di te. Perché ogni giorno tu ti sballotti dentro le mura della città, fra un luogo e l'altro dove si possa stare. E tutto deve essere riconfigurato ogni giorno o quasi ogni ora praticamente. Per esempio nel mio caso io avevo come punto d'approdo la mia biblioteca, perché lì ci sono i libri che mi servono, perché lì mi posso documentare, perché lì posso usare il mio computer e adesso non c'è più per esempio. Quindi uno non sa dove andare. Mi sono trovata a dormire sulle panchine, per esempio del policlinico. Dentro nel pronto soccorso. O nelle hall, proprio. Poi oltre a lì, ovviamente sono andata nelle strutture di prima accoglienza. Però non si può dormire lì. Si può soltanto distendersi un attimo a riposare durante la notte. Non si può dormire. Perché le persone sono piene di tensione, di rabbia, di scoramento, di frustrazione. C'è bisogno di sfogarsi e non lo si può fare in modo immediato. Cioè quando uno comincia a perdere la dimora, cioè il posto dove stare, comincia a perdere se stesso, perché non ha più un posto dove identificarsi. E non vuole identificarsi con altro. Allora io ho visto da vicino e dal di dentro che cosa è la persona senza. Tutto. Proprio senza tutto. Senza tutto. E vengo dall'avuto tutto praticamente. Il mio desiderio sarebbe quello di individuare un posto dove stare io. Con i miei libri e con tutte le mie cose che ho. È un racconto che fa stringere il cuore. Anche perché in realtà purtroppo, bisogna dirlo Don Ponti, ci sono delle difficoltà che adesso si stanno, come dire, moltiplicando in virtù anche della crisi economica che sta seguendo la pandemia. Quindi purtroppo bisogna stare molto attenti e bisogna stare vicino a queste persone. Una persona come quella che abbiamo ascoltato ha anche la capacità di riflettere, di gestire la situazione con una certa lucidità, chiamiamola. A volte manca questa lucidità e quindi si va incontro a quello che veniva descritto, questa frustrazione, questa rabbia che poi in genera altre situazioni ancora peggiori. E quindi per fortuna ci sono la Caritas, ci sono associazioni che stanno vicino a queste persone e le aiutano a far fronte a quello che è il vivere quotidiano in mezzo alla strada. Che tra l'altro è anche una sfida per queste associazioni in alcuni ambiti e in alcune situazioni, perché in questa situazione c'è, come diceva lei, una consapevolezza di quello che è successo e del fatto che il bisogno c'è e bisogna affrontarlo. In altri frangenti ci sono delle persone che vivono per strada e che rifiutano, diciamo così, l'aiuto e sono veramente complicate. Il problema è quando ci si chiude in se stessi e non si sa più comunicare e quindi è anche l'aiuto che ti viene portato, è visto come un'intrusione, un venire dentro la tua intimità e tutto diventa più difficile, diventa difficile anche aiutare. E allora capiamo quello che succede a volte in questi contesti dove ci sono anche delle zone dove si radunano persone in difficoltà e la tensione cresce, un po' come veniva descritto, e va gestita, ci vogliono degli operatori anche preparati per questo. Assolutamente. Ovviamente c'è poi il sostegno più materiale, più necessario che è quello del cibo. Poi si arriva lì e anche il problema c'è. Se manca quello, poi le famiglie vanno in crisi, tutto diventa più difficile da gestire, da capire, da organizzare e sappiamo che la crisi che stiamo vivendo tocca diverse famiglie. Allora da una parte è bene essere coscienti di questa situazione, di questa crisi, dall'altra dobbiamo impegnarci a fare qualcosa. Ci sono delle realtà come il Banco Alimentare che si impegnano su questo fronte e quindi magari vediamo lo spot che è stato preparato proprio per questa realtà difficile che si sta vivendo e l'impegno che noi possiamo dare. Un messaggio molto particolare quello che vediamo adesso del Banco Alimentare. Sono super contenta! Quest'anno la mia mamma mi ha detto che non andiamo in vacanza perché abbiamo una città tutta libera per noi. posso andare sull'altalino senza aspettare il mio turno, andare in bicicletta sul marciapiede e saltare per tutta casa, tanto nel palazzo non c'è nessuno. E poi visto che la mezza della scuola è chiusa, la mia mamma mi ha detto che potrò mangiare tutto quello che voglio. Cioccolato, patatine, caramelle e addio pesce lesso! solo ilànhale, caramelle e addio pesce lesso! Se la mia mamma mi ha detto che vi Coglie produce un bel play di suolo per particolare, caramelle e addio pesce.. le cornie di sorta però effettivamente poi quello che si mangia è importante e a volte la realtà è diversa il problema della famiglia deve nutrire soprattutto i figli piccoli e sappiamo che bisogna avere un'attenzione per l'alimentazione dei bambini non si può dare soltanto caramelle e cioccolato bisogna pensare al loro sostentamento integrale e appropriato e questo è un impegno anche economico e quindi non sempre tutte le famiglie hanno i fondi mezzi adeguati per acquistare quello che è necessario per i figli più piccoli per fortuna c'è una rete sociale che cerca di andare incontro a queste esigenze e quindi da parte nostra da parte di chi ha qualche possibilità in più non fermare gli occhi non chiudere gli occhi e fare qualche gesto di carità di carità cristiana di carità sociale sì che tra l'altro stanno moltiplicando anche queste iniziative perché in tantissimi supermercati c'è il carrello lasciato lì per la spesa solidale perché effettivamente le problematiche ci sono sono piccoli gesti anche che si possono fare in un modo molto semplice perché al supermercato basta prendere dalla propria spesa qualche cosa in più e si mette a disposizione e sappiamo che tutto è monitorato in modo appropriato per arrivare a chi veramente manca del necessario ha bisogno di quello che noi lasciamo per per vivere per riempire il piatto ogni giorno e poi c'è un'associazione molto vicina ai paolini anzi è dei paolini questa associazione che è dedicata allo storico direttore di famiglia cristiana don zilli mi piace ricordare anche quello che settimanalmente fa l'associazione don zilli per andare incontro a dei casi umani che sono dei casi che stanno un po' crescendo in questo frangente in questa situazione post pandemia o di pandemia l'associazione don zilli propone ogni settimana sul nostro settimanale famiglia cristiana un caso che viene chiamato proprio il caso della settimana sono sempre persone che per vari motivi per malattia per disagio vivono situazioni di grande povertà e devono essere risollevate per fortuna c'è sempre chi offre qualche contributo qualche mezzo e devo dire questi casi sono sempre scelti selezionati con grande attenzione quindi c'è la sicurezza che quanto viene raccolto arriva a destinazione e viene usato in modo appropriato questo è quello che da un certo sollievo a chi fa queste offerte si mette a disposizione per alleviare le sofferenze di qualcuno quindi nel sito www.associazione don zilli.it troviamo tutte le indicazioni per fare le donazioni grandi o piccole che servono però a andare incontro a quel caso della settimana che famiglia cristiana presenta in maniera molto dettagliata in questo caso era giacomo che anche oltre alla povertà avuto un problema di salute che ha gravato il tutto e quindi con cinque figli lo vedete la concretezza dell'aiuto va anche a individuare qual è l'ambito dove agire insomma in questo caso ci sono tanti ambiti ogni settimana uno è selezionato e poi ogni semestre si fa un resoconto dove si mettono in evidenza quanto è stato raccolto e quanto è stato dato va bene ci fermiamo la pubblicità e poi i consigli per per la lettura molto particolari anche questi nella puntata di oggi il punto di luce tra poco rieccoci dicevamo i consigli di lettura questa volta religiosi sì siamo nell'ambito della letteratura perché presentiamo dei testi che sono di una lettura facile non sono dei saggi ma sono libri di lettura dei racconti uno in particolare il primo che presento è simpatico perché si intitola diario di una perpetua di campagna sappiamo che a partire da manzoni il nome perpetua identifica la persona che aiuta il parroco forse non ce ne sono più tante ma ce ne sono ancora o comunque nel nel pensiero nell'immaginario di noi italiani la perpetua ha un ruolo particolare nella parrocchia e grazie al cielo ce ne sono ancora parrocchie che hanno queste persone dedicate veramente alla vita del del clero del parroco ma anche della comunità e quindi legati alla perpetua ci sono tanti avvenimenti simpatici che l'autore di questo libro diego gozo che è un prete quindi è ben informato sui fatti ha raccolto con un po di fantasia ovviamente è una piacevole piacevolissima lettura direi proprio una lettura estiva e quindi vediamo anche la presentazione che ne fa lo stesso autore vediamo l'autore non è neanche da solo l'autore vediamo tutto sta procedendo secondo i piani siamo riusciti a mettere mano su uno dei tesori più ben protetti e misteriosi dell'intera cristianità attraverso questo libro voi potrete conoscere come funziona la vita di un sacerdote raccontata dalla sua perpetua vivere un anno intero in canonica da natale a pasqua alla festa patronale divertirvi condividendo le piccole grandi storie della vita di tutti i giorni condite con ironia e un poco di santa perfidia non perdetevelo e il mondo sarà nostro don diego è pronto la pasta viene a tavola no va bene ma stavo registrando si doveva essere un gatto non abbiamo trovato il gatto abbiamo usato te per sua grande gioia tra l'altro si vedeva benissimo comunque simpatico anche nel proporre la sua fatica letteraria fa capire proprio come dire non è la sua prima fatica letteraria non è il suo primo libro quindi una persona è un prete che sa destreggiarsi bene con la letteratura con lo scrivere e quindi la lettura è veramente piacevole edizione san paolo è facile da trovare è una lettura che proponiamo a tutti per divertirsi e anche per riflettere perché poi le cose che vengono dette aiutano a capire la vita di un prete la vita di una comunità e magari ci divertiamo anche esatto è un po' da ombrellone perché è leggero però fa sempre pensare e insegna diciamo così insegna sì esatto insegna insegna allora l'altra invece è più culinaria diciamo sì il secondo libro è sempre ambientato un po' nella vita dei preti dei vescovi dei cardinali è proprio il titolo la trattoria del cardinale che richiama la trattoria il ristorante frequentato ai tempi dal cardinale Ratzinger pensate un po' sono dei racconti o comunque delle descrizioni in cui il cibo entra proprio nel in quello che si descrive perché attorno alla tavola si costruiscono tante cose e si costruisce anche la fede pensiamo all'ultima cena quindi è l'importanza che ha il ritrovarsi attorno a un tavolo anche nella fede cristiana sono racconti che o comunque descrizioni che ci aiutano a capire proprio come attorno a un tavolo si può costruire qualche cosa di buono e alcuni santi proprio ci sono vicende monasteri e anche papi vescovi che attorno a un tavolo preti che hanno costruito magari situazioni di gesti di carità per andare incontro a situazioni e aprire anche una trattoria un ristorante con questa finalità l'autrice Sabrina Vecchi racconta un po' anche della sua esperienza in questi in questi testi e le edizioni sono le edizioni pauline quindi anche questo facilmente un testo facilmente ritrovabile nelle librerie cattoliche soprattutto ma anche negli store online quindi è facile farselo arrivare a casa e poi portarselo in vacanza in spiaggia o dovunque andiate quindi buona lettura in questa estate che ormai è qui è presente ovviamente noi torniamo un attimo al punto di partenza e quindi a questo tema della povertà che è così estivo anche nel modo in cui è stato trattato cioè bisogna stare attenti bisogna mantenere accesi i fari su questa tematica e lo facciamo con il Vangelo Sì siamo sempre nell'anno biblico della famiglia Paolina quindi in tutto questo periodo stiamo offrendo al termine del punto di luce una frase della scrittura dell'antico del nuovo testamento in cui si riprende un tema e lo si dà alla riflessione abbiamo parlato di povertà e abbiamo detto che la povertà si può affrontare anche con i gesti di carità con un gesto concreto di amore di attenzione a chi è vicino a noi e ovviamente chi ci insegna la carità chi ci insegna i gesti appropriati anche per far fronte alla povertà è Gesù stesso che nel Vangelo in particolare nel Vangelo di Matteo parla proprio di un gesto semplice che va preso nella concretezza del gesto cioè qui si parla e adesso leggiamo insieme questa frase di dare un bicchiere d'acqua fresca Gesù dice chi darà anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo vi assicuro che riceverà la sua ricompensa quindi Gesù parla di un gesto concreto che bisogna fare nella necessità perché sappiamo che la sete è qualche cosa che fa star male quindi se si può dare da bere ad un assetato lo si aiuta in maniera veramente seria e completa però al di là del gesto concreto è quello che evoca questa frase di Gesù cioè bisogna essere accanto agli altri con i gesti semplici i gesti che sono magari meno visibili ma che aiutano ad alleviare una situazione di bisogno quindi non soltanto il bicchiere d'acqua non soltanto il piatto di minestra o comunque quello che serve per sostentarsi ma anche un atteggiamento di attenzione di benevolenza di comprensione verso chi c'è accanto questo è quello che Gesù propone e lui il Signore ci fa capire che questi gesti se sono fatti con un'attenzione che va al di là anche alla persona che c'è davanti quindi acquistano un valore maggiore perché non è soltanto la persona che sia davanti che siccome mi piace siccome mi è simpatica determina la bontà del gesto ma è il gesto in sé che ha un suo significato profondo che va sempre tenuto presente quindi superiamo anche le difficoltà di avere accanto una persona non bella non simpatica che non ci aggrada a volte però proprio le persone che forse lasceremo un po' più lontane sono quelle che hanno più bisogno di un aiuto di una comprensione hanno bisogno di quello che Gesù di una carezza proprio profonda va bene allora è l'ultimo punto di luce della stagione giusto? è l'ultimo punto di luce della stagione siamo arrivati se teniamo un po' il conto da quando abbiamo iniziato a 45 e non è poco e penso che poi con settembre avremo qualche novità abbiamo preparato un nuovo studio c'è la possibilità di rinnovare qualcosa e lo faremo insieme quindi magari ci rivediamo con Jacopo con tutta la redazione di Telenova per andare avanti in questo percorso e allora è l'occasione anche per ringraziare la regia tutti coloro l'emissione tutti coloro che supportano questa trasmissione perché ogni settimana sia presente grazie a tutti e buona estate noi andiamo a leggere i due libri sotto l'ombrellone o dovunque andiamo e poi ci rivediamo a settembre grazie a Don Roberto Ponti grazie a voi per averci seguito e continuate a stare su Telenova buonasera a presto grazie a tutti